Il gruppo di volo dell'aeronautica militare, noto al grande pubblico con le frecce tricolori, ha appena impreziosito la festa della Repubblica stendendo nel cielo di Roma il caratteristico tricolore di Fulmini. La battuglia acrobatica nazionale costituisce uno dei simboli più conosciuti ed apprezzati dell'italianità del mondo. Ovunque si esibiscano, le frecce rappresentano la sintesi dei valori, delle capacità e dello stile che l'aeronautica militare in Italia possono esprimere, come detto spesso, prestigiosi riconoscimenti.